Buongiorno, siamo dei ragazzi di quarto del liceo scientifico, io sono Mattia e io sono Davide. Oggi andiamo a mostrare un esperimento che riguarda l'acidità e la basicità di alcune sostanze della vita di tutti i giorni. Come possiamo vedere abbiamo per esempio del detersivo, del latte, comunque sono delle sostanze della vita di tutti i giorni. È importantissimo sapere se alcune sostanze sono acide o basiche perché dobbiamo sapere il loro comportamento e la loro reazione a contatto con altre sostanze. Per misurare l'acidità o la basicità delle sostanze si usa la scala del pH che parte dal pH 7, che è il pH neutro, quindi dall'acqua pura ad esempio, e ha alcuni valori. Quando è minore di 7 si parla di sostanze acide, quando è maggiore di 7 si parla di sostanze basiche. Alcune sostanze possono modificare la loro colorazione se vengono in contatto con sostanze acide o sostanze basiche. L'esperimento che andremo ad effettuare oggi è un esperimento qualitativo perché non ci consente di stabilire esattamente il numero del pH, ma di stabilire se la sostanza è acida o basica. L'indicatore naturale che andremo ad utilizzare oggi è quello estratto dal radicchio rosso. Adesso andiamo a sminuzzare il radicchio prendendo solamente le parti rosse che contengono il nostro pigmento, le antocianine. Per estrarre il nostro indicatore naturale dall'antocianine utilizzeremo l'alcol etilico che romperà le cellule, facendo fuoriuscire il nostro indicatore. Dopo aver estratto il nostro indicatore passiamo quindi alla fase del filtraggio. Utilizzeremo un filtro di ceramica che tratterà in superficie le parti solide e permetterà di versare all'interno del nostro bagger solamente l'indicatore. Per far scivolare meglio l'indicatore all'interno del bagger ci vogliamo dell'utilizzo di una spadola a cucchiare. Adesso abbiamo ottenuto il nostro indicatore e quindi possiamo procedere con l'inizio del nostro esperimento. Partiamo con il versare del detersivo all'interno di queste provette. Abbiamo diverse sostanze. Qui c'è il detersivo, abbiamo della candeggina, del vino bianco, del sapone neutro, del succo di mila. Poi qui abbiamo del latte, aceto, bicarbonato di sodio, zucchero e limone. Quindi partiamo con del detersivo. Andiamo a versare un po' all'interno della privetta. Passiamo alla candeggina. Qui abbiamo l'ausilio di una privetta. Andiamo a versare sempre due dita all'interno di questa provetta. Passiamo al vino bianco. Sempre con l'ausilio di una privetta. Bipetta. Bipetta. Il sapone è un altro. Il sapone è un altro. Il sapone è un altro. versiamo del latte già provando all'interno di un becker facciamo la stessa cosa adesso andiamo a mischiare a del bicarbonato un po d'acqua per mischiarlo siamo una bacchetta di vetro ok questa soluzione andiamo a versare all'interno di questa provetta la sua gola di zucchero andiamo a fare esattamente la stessa cosa grazie e per ultimo abbiamo il succo di limone ok una volta preparate tutte queste sostanze all'interno di queste provette usiamo dell'idrossio di sodio e dell'acido cloridico che sappiamo essere due sostanze rispettivamente basica e acida quindi andiamo a fare la stessa cosa andiamo a versare prima dell'idrossio di sodio all'interno di questa provetta e successivamente dell'acido cloridico all'interno di questa provetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti passiamo all'interno di questo cloridico possiamo proseguire dunque versando sempre attraverso l'utilizzo di una pipetta il nostro indicatore all'interno delle provette contenenti le sostanze precedentemente elencate partiamo quindi come possiamo notare quindi la sostanza presente all'interno di questa provetta assume una colorazione rossa quindi questo significa che si tratta di una sostanza acida al contrario invece per una sostanza basica la colorazione sarà tendente al verde o al blu adesso andremo a versare il nostro indicatore all'interno di queste altre provette contenenti altre sostanze per stabilire appunto se sono acide o basiche basandoci appunto sulla colorazione di queste altre due sostanze che sono rispettivamente acide e basiche aspetta contenendo queste sostanze diverse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.